Via Cosma stamattina è particolarmente trafficata, passano auto di continuo, le persone guardano quel muretto, qualcuno si fa il segno della croce e procede dritto. Un ragazzo scende dalla macchina, lascia un mazzo di fiori bianchi, il lacrime ci chiede di lasciarlo andare. Nessuno vuol parlare, a Cervinara c'è solo spazio per il dolore. Il paese è frastornato per questa assurda tragedia. È sabato sera, un fine settimana, che quattro ragazze e amiche da sempre decidono di trascorrere insieme. Roberta, Alessandra, Mari Liba e Giovanna. Sembra sentirle parlare, ridere e scherzare. Le quattro amiche che a pochi minuti dal loro rientro a casa con la macchina sbattono contro un muretto e tutto ciò che hanno progettato negli ore precedenti viene cancellato. Mentre si affaccia l'alba di un nuovo giorno, di una domenica che Alessandra e Roberta non viveranno perché la loro vita si è spezzata qui. Due giovani donne brillanti, come le ricorda il sindaco. Abbiamo perso due giovani donne, due professioniste, che si affacciavano alla vita sulla scorta di una competenza, di un'esperienza che avevano maturato in un percorso universitario assolutamente brillante. Roberta aveva da poco completato il servizio civile qua al comune. Avevamo vissuto giornate fianco a fianco. Di Alessandra ne abbiamo apprezzato il grande attaccamento allo studio. L'amore per la famiglia aveva perso la mamma qualche anno fa e aveva saputo reagire e dare conforto al papà. Le famiglie sane del nostro paese, famiglie per bene, che hanno allevato i figli con il sacrificio, con il rigore morale, indicando loro una strada, quella della competenza, della responsabilità. Le altre due ragazze ricordano qualcosa di ciò che è accaduto? Io per la verità ieri mattina ho avuto modo di parlare con loro più di rincuorarle. Non abbiamo parlato della dinamica dell'incidente, non mi è sembrato opportuno, ma ho cercato solo di confortarle, di rincuorare la ragazza che era alla guida, che naturalmente è sopraffatta dai senti di colpa. Appena sono entrata mi ha detto Caterina tu hai delle sorelle, ho detto sì ho due sorelle. Bene, noi abbiamo perso due sorelle.